o socialmente elevate. Di solito sono di ceto molto basso, vivono in zone difficili o sono figli di genitori immigrati che non hanno saputo integrarsi in Danimarca. A volte i genitori hanno problemi di alcolismo o sono malati mentali. Spesso arrivano ragazzi che avevano lasciato la famiglia d'origine per vivere in un'adottiva e crescendo, divenuti teenagers, si sono trovati ad affrontare gravi problemi. Andare alla scuola normale mi piaceva, però ora ho finito. All'interno della scuola l'arredamento era di qualità scadente. I problemi non sono solo dei giovani, ma su di loro si riflette un disagio della società. la responsabilità non è loro, ma del sistema. è molto più difficile per il modo dei giovani. Sogno di andare in Sud America. Mi incuriosisce il Brasile. Cercherò di andarci. La natura, la gente, il caldo, che forza. Basta vedere quando ballano la samba il calore che trasmettono. Però, visto come vivono lì, non mi sentirei sicuro a stabilirmici per sempre. Qui in Danimarca mi sento più protetto e poi le spese sono pagate dal comune. È costruttivo cercare di risolvere queste difficoltà e noi lo facciamo con grande rispetto per i ragazzi, partendo dall'idea che tutti hanno risorse e capacità, ma spesso non riescono a rispondere alle richieste della società, perché mancano di fiducia in se stessi. Il problema sorge quando diventano più grandi, hanno bisogno di valori umani e qui forse li trovano. Se la vita fosse una partita di calcio, io sceglierei sempre il secondo tempo, perché nella pausa puoi parlare con l'allenatore che ti dà dei consigli. Io ora nella mia vita sto vivendo questa pausa e questa istituzione è un po' il mio allenatore. Il classico modello scandinavo del giovane che se ne va presto via di casa per studiare o lavorare viene confermato in questo centro modello di Copenhagen, dove vengono a vivere a spese dello Stato studenti universitari provenienti da tutto il paese. Vivo in questo ostello da circa un anno. Gli studenti, almeno la maggior parte di loro, la mattina vanno alle lezioni. Il pomeriggio si passa in cucina a guardare un po' di tv, bere un caffè e fare due chiacchiere. Qualcuno ogni tanto inforna una torta. Poi la sera di solito siamo una decina di persone e allora ci cuciniamo una cosa qui in cucina. Poi cominciamo a parlare oppure scendiamo giù al caffè dell'ostello e una volta alla settimana ci vediamo tutti qui. Qui vivono studenti di tutte le facoltà. Io faccio scienze politiche. C'è chi fa medicina, filosofia, storia, economia. Abbiamo ogni tipo di studente. È interessante stare tutti insieme, confrontarsi con tutti e non solo con quelli della tua facoltà. Alla gente piace abitare in gruppo. Non si può passare tutto il giorno sui libri. Formiamo una piccola comunità al di fuori dello studio e credo che questo sia molto positivo. Può anche essere un modo per sentirsi più indipendenti dalla famiglia. Qui è molto comune il desiderio di andare a vivere per conto proprio. È la prima cosa che tutti si aspettano di ottenere appena finita la scuola dell'obbligo. Molti partono per un viaggio. Io, per esempio, ho appena finito il liceo sono andata in Norvegia a lavorare. Ci sono rimasta otto mesi. Poi sono andata in Ecuador e in India. È molto usuale girare un po' il mondo. In un paese dove anche i figli del re vanno a studiare nella scuola pubblica i tassi di scolarizzazione appaiono davvero elevati. Anche se i pareri sull'efficienza di un sistema scolastico fondato più sull'accoglienza che sulla competizione sono diversi. Lisbeth è una mamma danese appena tornata in Danimarca dopo un lungo periodo vissuto in Italia. Noi siamo venuti da Roma quest'anno. Siamo in Danimarca da tre mesi. I bambini miei sono nati e cresciuti a Roma e poi, essendo io danese, ho voluto portarli qui in Danimarca per farli vedere un po', per farli conoscere la cultura danese. Quindi abbiamo in programma di stare qui un anno. L'esperienza è quella di una scuola molto meno accademica rispetto a Roma, quindi più facile. Innanzitutto i bambini iniziano a sette anni e non a cinque e mezzo, sei anni come in Italia. I bambini sono più grandi quando iniziano, eppure il livello appunto è più basso. Si punta moltissimo sul lato sociale, cioè a insegnare ai bambini di essere bravi cittadini democratici e queste cose, di collaborare insieme, fare queste cose qua, piuttosto che imparare la storia, la geografia e queste cose qua. Questo secondo me è un bene e un male allo stesso tempo. Noi seguiamo gli alunni uno a uno. Facciamo per ognuno di loro un piano in accordo con i genitori. Facciamo anche molte riunioni tutti insieme, per sapere come vanno le cose, come sono i rapporti di socializzazione tra loro, dove trovano le maggiori difficoltà, come se la cavano con i compiti, eccetera, eccetera. Poi genitori e insegnanti insieme cercheranno le migliori soluzioni per tutti i singoli problemi, sempre con lo scopo di migliorare l'apprendimento dei bambini. E' una società che coinvolge molto, però è anche una società che vuole che tutti sono uguali. è una società che punta all'eguaglianza. In Italia siamo molto più abituati al fatto che tutti sono diversi. Abbiamo un napoletano, abbiamo un siciliano, abbiamo un milanese. Sono cose completamente diverse. In Danimarca siamo più o meno tutti la stessa cosa. Pensiamo allo stesso modo. Infatti anche guardando la situazione politica danese è molto difficile vedere le vere differenze tra i vari partiti perché più o meno dicono la stessa cosa. Qui sono tutti d'accordo su tutto. È tutto molto cambiato rispetto ai tempi in cui ho iniziato a insegnare. Ora bisogna continuamente rendere conto dell'attività didattica svolta con ogni singolo bambino. C'è molta più burocrazia, siamo pieni di scartoffi. Questa idea dell'eguaglianza inizia già nella scuola e per questo motivo abbiamo una forte discussione in Danimarca sugli immigrati. Gli immigrati sono una provocazione per la società danese perché essendo qui l'illusione, secondo me l'illusione che tutti sono uguali e devono essere uguali è chiaro che una persona scura che viene con una cultura diversa che magari sono musulmani arrivano con una religione non una religione diversa, una religione perché qui la religione non c'è. Quindi è una fortissima provocazione per questa società e per questo motivo la Danimarca ha introdotto le norme più severe per i rifugiati politici rispetto a tutto il resto d'Europa e qui arriva quasi nessuno. È uno Stato che in campo religioso non vuole prendere posizione è una cultura che non vuole interessarsi della religiosità poi ci sono naturalmente i soliti conflitti di un laicismo che vorrebbe eliminare tutte le presenze del religioso nella vita sociale conflitto che adesso diventa più acuto con la presenza dei musulmani i quali invece vogliono che questa presenza religiosa sia evidente i nostri cristiani hanno l'impressione che dovrebbero in qualche modo nascondere la loro religiosità il loro cristianesimo per far piacere ai musulmani invece è il contrario perché i musulmani in qualche modo disprezzano quelli che non pregano. In Italia è vero che anche lì rifugiati politici non arrivano ma questo perché nessuno li aiuta in Italia non gli importa niente a nessuno quindi sopravvivono se riescono da soli qui invece c'è un sistema ovviamente di protezione verso chiunque entra dentro il paese però quasi nessuno entra più perché le norme sono talmente severe e questo è una richiesta da parte di tutta la società danese da destra e da sinistra non vogliono immigrati è molto comune qui da noi che gli studenti facciano anche un lavoro infatti tanta gente mi chiede come mai non lavori in realtà è inusuale non ho bisogno di lavorare in questo periodo perché ho messo qualche soldo da parte faccio solo un po' di volontariato ma non mi arriva niente da casa da quando compi 18 anni cominci a prendere il sussidio governativo all'inizio è circa 300 corone una piccola cifra finché vivi ancora con i tuoi quando poi te ne vai di casa e inizi l'università l'aiuto naturalmente aumenta e arriva fino a 4000 corone che è quanto sto ricevendo io circa 500 euro 400 euro vanno via ogni mese soltanto per stare qui perciò bisogna lavorare dopo aver pagato le spese per l'alloggio restano solo 100 euro e questo è anche il motivo per cui se non puoi lavorare perché hai un handicap lo Stato ti dà una somma più alta fino al doppio perché lo Stato presuppone che tutti gli studenti lavorino questo crea qualche malcontento fra alcuni studenti che si sentono troppo sotto pressione da molti strumenti io trovo che il sistema di welfare è buono nel senso che qui le scuole sono buone le scuole sono buone le scuole sono buone le scuole sono buone però devo dire che non trovo che gli italiani sono così indietro come gli italiani pensano di essere io credo che la scuola pubblica sia un grande valore per la società è il luogo dove i bambini imparano a socializzare con culture diverse e questo è molto importante in un mondo globalizzato diventeranno senz'altro adulti più tolleranti qui forse siamo arrivati a capolinea nel senso di welfare state che sta andando un pochettino indietro nel senso che quando arrivi a un eccellenza capolinea appunto può solo andare indietro la scuola in danimarca è completamente gratuita in questa scuola abbiamo una biblioteca dove gli alunni possono prendere tutti i libri che desiderano leggere portiamo i bambini a spettacoli teatrali facciamo gite c'è il dentista pure quello è gratuito tutto è pagato dallo Stato anche i libri di testo e qui quindi c'è un po' il problema che la burocrazia ha preso il sopravento e allora le persone non ricevono più le cure che vorrebbero la campagna danese la immaginiamo un po' coi toni sfumati di una favola di Ansel e Gretel o forse sarebbe il caso di dire dei tre porcellini in danimarca riceviamo qualche sostegno c'è attenzione per l'agricoltura e l'ecologia però l'agricoltore biologico meriterebbe più attenzione rispetto agli altri perché è difficile curare l'ambiente rispettando tutte le regole che ci impongono una burocrazia con la quale è quasi impossibile comunicare con un sistema di leggi, di regole molto rigido e complicato e ci vuole molto tempo per riuscire a fare qualcosa e lavorare con l'agricoltura e ci vuole molto tempo ho deciso che il mio allevamento fosse biologico non per ragioni ideologiche ma pratiche la differenza tra l'allevatore che ero prima e quello biologico che sono adesso è che non posso più utilizzare alimenti chimici e quando i maiali sono malati non posso arrangiarmi per conto mio ma deve sempre venire qui un veterinario a controllarli i maiali di produzione biologica devono avere quattro volte più spazio a disposizione rispetto a un allevamento normale e stare all'aperto almeno 150 giorni all'anno nella bella stagione in generale sono molto soddisfatto dei servizi che ricevo dallo Stato si è molto parlato di welfare soprattutto nell'ultima elezione il dibattito è sempre sulle tasse e in Danimarca non c'è dubbio che siano alte però sono anche di alto livello i servizi che lo Stato ci offre il sistema di tassazione può essere un po' aggiustato si può fare qualche piccolo cambiamento per esempio se sporchi o inquini di più sarebbe giusto che tu pagassi più tasse se sei ecologico invece dovresti avere nel complesso un vantaggio fiscale maggiore da qui inizierebbe una catena virtuosa al supermercato si comprerebbero più prodotti biologici e la salute ne avrebbe un vantaggio qui certamente ci sentiamo molto aiutati ma continuo a sentire gente preoccupata alcuni continuano a chiedersi cosa farò, come andrà a finire forse sono le aspettative a cambiare quando dai per scontato il tuo diritto allo studio sai che tutti i tuoi problemi in questo settore sono risolti allora pretendi sempre di più i dannesi hanno la convinzione di essere i migliori in questo senso della welfare state non è del tutto vero siamo anche oramai una società molto viziata la gente non pensa più tanto a cosa posso dare io cosa devo dare agli altri ma si pensa molto di più a cosa voglio io ricevere e questo ovviamente è un cambiamento che minaccia un sistema di welfare perché devi dare se vuoi ricevere penso di avere davanti a me molte possibilità certo, sento anche molta pressione essendo lo studio gratuito per tutti è necessario eccellere devi fare tutto meglio degli altri il governo dice sempre gli studenti non studiano abbastanza l'università non insegna abbastanza bene dobbiamo essere sempre innovativi intellettualmente vivaci insomma, per un ragazzo può essere angosciante avere molti privilegi in una società che si aspetta sempre di più da te il problema di un sistema sociale molto organizzato è che può essere rigido pieno di regole noi ora stiamo passando a un sistema accogliente più comprensivo che riflette su ogni caso insomma, ha un sistema flessibile ed i giovani hanno bisogno di una cornice che gli sia adatti dove stiano bene non di una scatola prefabricata uguale per tutti il punto è cercare un contatto positivo con le persone profondo e reale ma non vado certo a dirlo da pubblico se a chi viene qui in cerca di speranza dicessi che anch'io spesso sento di averla perduta certo non sarei di grande aiuto l'unica speranza è dire che Dio è sempre con noi dopo la depressione e il cancro avevo solo voglia di morire ma dopo sei mesi mi sono ripresa ho capito cos'è la gioia di vivere ho dovuto impararlo nel modo più duro è stato difficile accettare che il mio valore come persona non è sminuito dai limiti della malattia che sono gravi non ho più memoria dimentico anche cose importanti la sfida più grande è stata riconoscere che essere vivi è un valore in se stesso prima la mia identità era legata al lavoro ora sono nel mondo così semplicemente ho tutti i diritti di starci e voglio farlo al meglio e anche le cose Black Whoa basura appassione appassione apassione attayo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.